attenzione il volo d'angelo lasciamo stare l'altra volta uno si è messo col paracadute mentre scendeva giù guarda il gioco sa già che io devo essere la squadra subacqua decoy octopus quello è quello di metal gear lasciamo stare che una volta mi inseguiva con la cucola no col caccia mi stava seguendo gli sparo con che si chiama con l'oppresso lo prendo si mette col paracadute e mentre scendeva col paracadute lo ucciso detto troppo figo a max andiamo con una macchina basta tanto comunque se dobbiamo essere lì scegliamo la tua se hai messo una di volte così la vedo io non l'ho non l'ho ma l'ho ma l'ho venduta ma faceva schifo pensavo pensavo cioè se avessero messo qualche sembra una macchina di un sete si ah hai preso l'SC1 si ma questa qua è la super più lenta di tutto il gioco anche io l'avevo comprata insieme a Daniele poi mi hanno visto io l'ho venduta ti fai tipo un milione e qualcosa non è buonissimo anche a me l'altra volta stavo giocando con uno e questo qua stava facendo la notte con un altro ragazzo con un altro tizio che tu lo uccidevi e ti scriveva pussi ma non pussi con la y pussi con la i e poi ogni volta che lo uccidevi rideva faceva ah 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 e con lui non ha abbandonato la sessione ha distrutto le mie scotte mi sono messo a ucciderlo io col cecchino da lontano e dopo un po fa no ma tanto se non ha abbandonato la sessione con me non l'abbandonerà con te no? minchia l'ho ucciso dieci volte e ha abbandonato la sessione ma come con te non abbandona i commessi ma che cazzo è qua attenzione max patato e la ferrovia volante nuovo film anzi no max patato e la ferrovia filosofale attenzione nuovo film devo fare due film devo fare il gene e fare lui e i glitch glicciati anzi e i glitch facciati adesso sarà il film con lui che dice ma non va e faccio il trailer universal il picture rappresenta e faccio il video con lo metto su youtube e poi con max invece faccio lui che passa sempre sulla ferrovia fa fai la ferrovia per la ferrovia che che fai prima è max patato e la ferrovia filosofale e metto la bo metto un treno come immagine con con un fulmine sopra no non è male però attenzione attenzione max patato le super e le super attenzione che poi è bello perché noi pigliamo le manchina ma non facciamo le gare e appena riesco che magari siamo tutti il pomeriggio qualcosa faccio sei che ogni volta ci esce tipo l'evento e cose così no faccio inizialmente faccio un evento solo per risulta poi lo metto pubblico è e lo faccio anche per la gente normale però bisogna usare solo la foto è un evento con la foto capo si bisogna usare solo perché tanto le gare ce le ho già c'ho due elenchi di gare con le foto si da tipo 112 dollari qualcosa 36 dollari qualcosa così no è una sportiva ok ora lo vedo è bello che la tratta angelo mi fa ma non si può fare questa missione tutta silenziosa no perché appena entri dentro suona l'allarme appunto io ho spaccato la testa questo in modo silenzioso e subito l'allarme è scattato anche cazzo vai fast ai commander cosa si dice ai commander attenzione lui spara max patato si incazza li uccide tutti si hanno sistemato la cosa di serie si vede ok 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 Go to the bridge, io sono già sul bridge a fare la foto, bellissimo Dai, ho già tirato Ok magari ti girava intorno ma non ti sparava è perché quello lì è tu non lo sai è il figlio di DJ Lele ti gira intorno e dice ma noi gli spariamo devo sparargli intanto adesso io sto già uscendo stavo facendo vedere il filmato stavo facendo 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 ha fatto un'armi e un'air force waiting for us to deal with Bogdan so that he can take over and put the algorithms in charge. Have you seen these people? Holy shit, are they clones? Has he cloned himself? I can't tell. It looks like they're all plugged into the neural network or something. We've got a battalion of cyborg clone warriors plugged into a superbrain trying to wipe us out. Oh, I don't like this. Great, great. The IAA's network is down. It's, it's, it's Clifford. He's taken over. Do you know what he can do with the army? And that runs a lot is what he can do a lot. You don't get this robbing banks. They're robbing banks, you know, when you get stabbed in the back by your dumb greedy best friend. Sure, but he doesn't suddenly build an army of creeps to put an end to your way of life. He doesn't have a battalion of helicopters in his garage. Shit! 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 mettiamo la soga basta per il resto non serve chi sta quanto e questa cosa è già in veloce di su no penso di non avere 4 su troppi colpi ma per le sfide deve essere più di due persone che almeno due persone sull'aventura ci devono essere è sicuro Cosa? Cosa? Un citofono e un grillo? Figa Minchia, l'altra volta sei andato fino in fondo Eccolo Eh no, sta cosa non frena Problema che hombra, mi manda un mensaggio che tra l'altro Bene 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 bene, grazie a Deus hai arrivato qui Un po' niente che è incontro Un po' che è un uomo Oh, mi sento come tanto un uomo Ah, la mia vita ho davvero창ato Non ho entrato a qualcuno E ho confuso, mi accoglio E ho avuto un paese E una volta che ho deciso di essere piaciuto a qualcuno, si può dire che vuole destruire l'umanità! Questo è tutto il vostro. Ma mia carriera è in ruinesi! Ruinesi! Il nostro planeto sarà in ruinesi, te fatti, se non facciamo qualcosa. Il ha controllo di tutti i vostri sistemi! Non puoi anche chiedere per aiutare. Quindi tu puoi fare proprio quello che hai. Tu hai la mia autorità. E ci saranno pagati? Pagati! Si, chiamare la contribuzione pensione. Ovviamente, dei dei significati. Allora, ora scuola da qui. Per tutto quello che ho saputo, tu sei bugato all'interno della terrazza e tu non ne sai che i bugi ci sono! Buona luck! Non bisogna luck! Ha! 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 La mia carina è completamente... F***! Ha! 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 Ma te le grine e le manuele! Scusate, ero alle stelle! Ha! 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 Ha!